Operativi tutto l'anno i volontari di protezione civile si occupano di prevenzione, diffusione di buone pratiche tra i cittadini e nelle scuole, conoscenza e controllo del territorio, manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, frequentano corsi di formazione e di aggiornamento ed intervengono in tempi rapidi in caso di calamità, uomini e donne che aiutano la popolazione anche garantendo la sicurezza stradale davanti alle scuole. A Fano, il presidente del Cibi Club Mattei, Saverio Livi, oggi ha lanciato un appello per cercare nuovi volontari che abbiano voglia di impegnare un po' del loro tempo libero per mettersi a disposizione della propria comunità. Presidente, quali sono le competenze richieste e per quale mansione? Questa ricerca di volontari è dovuta al fatto che per dare dei servizi in città noi usciamo quasi in 40 volontari tutte le mattine, una decina sui furgoni per il trasporto anziani e disabili, parte sullo stabile della caserma sorveglianza e 28 davanti alle scuole. Quest'esigenza, questi progetti soprattutto dell'amministrazione comportano sempre un po' più di volontari e ne siamo abbastanza accorti perché durante l'inverno i volontari che sono addetti per questi servizi sono quasi pensionati e quindi hanno la necessità di essere liberi un giorno libero, due giorni liberi, una settimana libera e quindi siamo sempre al limite. Ed è per questo che cerchiamo dei volontari che siano liberi dal lavoro, pensionati, casalinghi, ragazzi che studiano, che riescono a svolgere oltre al discorso di protezione civile, lo faremo a ottobre, un appendei per ricercare i volontari di protezione civile perché quello è sempre più importante. Ma oggi siamo a chiedere a quelle persone che sono andate in pensione, si annoiano, non sanno cosa fare, di dedicare qualche ora al Cibiclub Mattei per far sì che noi possiamo dare quella risposta che il comune e le istituzioni ci chiedono per dare una mano alla polizia locale o ad altre istituzioni che col volontariato in pratica riescono, riusciamo a dare un servizio migliore alla città. Questi volontari poi potrebbero essere chiamati in caso di emergenze? Se lo desiderano sì, mentre quando facciamo l'open day in protezione civile è obbligatorio, li cerchiamo per la protezione civile, quindi gli facciamo un corso per tutto l'anno di segreteria, radio, cucina o logistica, in questo caso poi secondo si si trovano bene perché sono tutti insieme, è un'associazione, quindi saranno loro a decidere se a ottobre vogliono fare anche protezione civile, inizieranno i corsi e saranno al pari di tutti gli altri. Come è possibile iscriversi o contattarvi? Basta che mi chiamano direttamente e daremo le informazioni necessarie al 347 89 10 941. Il mio numero diretto è quindi tutte le domande e le richieste e poi magari ci vediamo e approfondiremo anche. Grazie. Grazie.